Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Finto Poliziotto chiedeva soldi per una bimba malata inesistente e ha arrestato un 39enne residente a Fano Chiesa di Lucrezia gremita per l'ultimo saluto a Selena Cani il lancio di palloncini bianchi all'uscita del feretro Scontro tra camion e auto in Flaminia, feriti padre e due bambine Trasporti sanitari, dipendenti e volontari presidiano la sede dell'ospedale Santa Croce di Fano Ospedale unico, Minardi replica le accuse dell'opposizione e annuncia querele Fra poco, dopo il Tg, torna primo cittadino ospite del programma il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Lo avete sentito dai titoli La polizia di Pesaro ha arrestato un 39enne urbinate ma residente a Fano che con un tesserino falso si fingeva un commissario di polizia L'uomo chiedeva soldi da destinare ad una bambina gravemente malata poi risultata inesistente Tutti i dettagli in questo servizio di Lino Balestra Si fingeva un commissario di polizia giudiziaria di Rimine con un falso tesserino e una lettera di presentazione anch'essa abilmente falsificata, firmata dall'ambasciatore d'Italia a Londra chiedeva contributi economici per sostenere le cure all'estero di una bambina gravemente ammalata Tutto falso, come la sua identità veri invece erano i 20.000 euro che tentava di farsi dare dai dipendenti, autisti e controllori della ditta di Autolini e Bucci ai quali aveva carpito la fiducia col suo fare credibile, l'inglese fluente e anche qualche intervento in situazioni critiche proprio come un vero agente sulla tratta Fano-Pesaro dove abitualmente da diversi mesi tesseva la sua tela truffaldina Simone Bernardi Casadei, di 39 anni, di Urbino ma residente a Fano è stato arrestato i giorni scorsi in flagranza di reato per tentata truffa e possesso di falsi distintivi dagli agenti della questura di Pesaro dopo che gli stessi agenti gli hanno teso una trappola è un'operazione che ha, insomma al grado, un respiro internazionale perché la segnalazione è arrivata da Londra e poi è stata sviluppata con l'aiuto dello SHIP e quindi cerchiamo di capire che tipi di collegamenti ci siano tra questo personaggio e Londra perché aveva prodotto un documento a firma dell'ambasciatore italiano a Londra con delle caratteristiche tali da rendere assolutamente credibile Ora la sua macchinazione è stata fermata ma altre persone colte da senso umanitario e solidale circuite dal suo fare affabulatorio potrebbero essere cadute nella sua tela Entrare con questo sistema di pietismo per ottenere poi in fondo come motivo finale era anche giusto crederci e versare soldi perché quando c'è di mezzo la cura di una bambina bisogna alzare le mani quando è vero dato che in questa circostanza non era vera quindi la polizia ha attuato tutti i sistemi per mettere in evidenza la grande truffa che si stava compiendo quindi per me adesso è importante anche mandare questo appello di dire chi ha subito truffe da questo personaggio o era in corso una trattazione, una contrattazione, una negoziazione su un'eventuale altro raccolta fondi per motivo X è pregato di venire qui in questura per denunciarci l'accaduto Chiesa di Lucrezia gremita di persone oggi pomeriggio per i funerali di Selena Cani la giovane è rimasta vittima di un incidente in superstrada La chiesa di Santa Pollinare a Lucrezia non è riuscita a contenere la folla di parenti amici e conoscenti che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Selena Cani la ragazza morta giovedì scorso a causa delle ferite gravi riportate in un tragico tamponamento avvenuto in superstrada Selli ieri avrebbe compiuto 22 anni davanti ad una folla commossa il parroco Don Sergio Carettoni ha iniziato la sua omelia con parole colme di speranza cristiana Selli ora ci precede nel cammino della fede prima dell'incontro con Dio ha detto invochiamo il suo aiuto chiediamole di non abbandonarci di farci accompagnare in questo percorso di fronte alla Cassa di Selli ha proseguito chi non crede vede solo una porta chiusa per sempre e si ferma ad un muro chi crede invece anche con tutti i dubbi e le incertezze va oltre all'aspetto materiale con la morte la vita non svanisce ma si trasforma a volerla ricordare durante il rito funebre anche i componenti dell'Avis la giovane infatti è conosciuta da tutti per l'impegno sociale che l'hanno aiutata ad essere eletta nel direttivo della sede di Lucrezia a Cartoceto dove oltre ad essere donatrice svolgeva il compito di componente del collegio dei sindaci alcuni volontari dell'associazione tra cui il presidente Gabriele Vampa e il consigliere Beatrice Bartolucci hanno letto una lettera ricordando il suo impegno costante il grande spirito giovanile la solarità il suo sorriso così come l'energia che riusciva a trasmettere e l'altruismo che aveva anche nei confronti degli sconosciuti le persone che piangevano la mettevano a disagio hanno raccontato le amiche perché in quei momenti Selly non sapeva come reagire ma lei era una forte non piangeva di fronte alle difficoltà reagiva e le superava per oggi concedici di versare le lacrime le hanno chiesto promettendo di affrontare le sfide d'ora in poi proprio come faceva lei ciao Selly grazie per la tua amicizia e il tuo straordinario esempio all'uscita del feretro un volo di palloncili bianchi accompagnato da un applauso hanno salutato quell'angelo che ha lasciato tutti troppo presto e ancora cronaca stava rientrando a casa dopo aver preso le due bambine a scuola un camion che proveniva da Fano però non si è accorto dell'auto che stava compiendo manovra per entrare nel garage e la centrata in pieno l'incidente è avvenuto sulla famiglia Fano alle porte di Rosciano intorno alle 13.10 sull'asfalto si notano i segni della frenata di una decina di metri sulla Ford oltre a Papa Marzio c'erano anche le due figlie di 9 e 7 anni sedute nei sedili posteriori l'impatto è stato attutito dagli airbag laterali tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso a bordo di un'ambulanza del 118 sul posto i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia stradale cambiamo argomento dipendenti e volontari dei trasporti sanitari hanno presidiato oggi la sede dell'ospedale Santa Croce di Fano dopo l'incontro infruttuoso avvenuto agli inizi di novembre in prefettura gli autisti delle ambulanze di Croce Verde e Solaris stamattina hanno presidiato l'ingresso del Santa Croce di Fano per sensibilizzare politici e opinione pubblica sul grave stato nel quale si trovano stretti come sempre tra l'incudine e il martello un'imbarazzante situazione senza stipendio ma costretti a lavorare nella quale sono entrati da luglio scorso e che non vede ancora la luce in fondo al tunnel i lavoratori stanno lavorando e non ricevono retribuzioni dal mese di luglio stanno svolgendo comunque un servizio che fa parte del servizio pubblico essenziale continuano a svolgere il loro lavoro nonostante il mancato pagamento degli stipendi e in più per capire quale sarà il futuro di qui in avanti quale sarà il futuro del prossimo anno oltre alla giornata di manifestazione odierna abbiamo indetto una giornata di sciopero di quattro ore per il giorno del primo dicembre dalle 7.45 alle 11.45 Chi vi è venuto a trovare stamattina qui? Allora c'è stato il dottor Minardi che è passato di qui si è fermato a parlare con noi praticamente ci ha detto ci ha rassicurato che si attiverà per formare un tavolo di discussione per finalmente risolvere la situazione un documento se lo possiamo chiamare così stilato dal presidente della Solaris dove ordina delega la Solaris in maniera impropria a consegnare le buste paghe di agosto settembre ottobre entro le ore 14 la nostra intenzione è quella di andare presso la sede della Solaris per prendere questi documenti per poter poi avviare le procedure della surroga per la responsabilità insolita ad opera della stazione appaltante gli autisti nel pomeriggio ci hanno fatto sapere che al momento le buste paga non sono state consegnate come scritto nel foglio e quindi siamo nuovamente al nulla di fatto e torniamo a parlare dell'ospedale unico perché Renato Claudio Minardi oggi replica l'opposizione fanese che lo accusa di aver venduto l'ospedale alla città di Pesaro in cambio dell'elezione in regione le dichiarazioni di Garbatini Santorelli e Del Vecchio sono dichiarazioni farneticanti sono buffonate nessuno ha venduto nulla a nessuno il sito del nuovo ospedale è assolutamente aperto anzi direi apertissimo ci sono sul tavolo le proposte di Muraglia sul tavolo la proposta di Chiaruccia c'è sul tavolo ancora la proposta deliberata tre anni fa che è il sito di Fosso Signore che fu condiviso dall'allora sindaco di Pesaro dal sindaco di Fano Aguzzi l'allora sindaco di Pesaro oggi è il governatore delle Marche e anche assessore della sanità fu condivisa dall'allora presidente della provincia Matteo Ricci e anche da Massimo Seri e da me dobbiamo immaginare anche di rivedere il piano aziendale perché l'integrazione fatta fra i due ospedali di Fano e di Pesaro prevedeva come punto di arrivo lavorare in un unico sito oggi invece lavoriamo su tre siti Muraglia Santa Croce e San Salvatore quindi il piano aziendale va assolutamente rivisto quindi nessuno ha venduto l'ospedale assolutamente falso quello che viene che viene detto io dimostro con chi mi conosce chi conosce la mia storia sa che sono una persona trasparente e leale e non mi sono mai risparmiato nel lavorare per la mia città e per il mio territorio e quindi la mia coerenza dimostra l'impegno che darò per la realizzazione del nuovo ospedale ritengo che la scelta debba essere fatta in modo assolutamente condiviso ma rispingo al mittente le dichiarazioni fanaticanti fatte dai consiglieri di minoranza e sempre sul nuovo ospedale a chiedere un incontro condiviso e partecipato con gli amministratori locali è Palmiro Ucchielli presidente dell'unione Pian del Bruscolo costituita dai comuni di Monte Ciccardo Monte Labate Tavuglia e Vallefoglia con questo intento Ucchielli ha inviato una lettera al direttore generale di Marche Nord Maria Capalbo al direttore di Arevassa 1 Carmine Di Bernardo e per conoscenza alla regione Marche oggi in prefettura invece il prefetto di Pesaro Luigi Pizzi ha ricevuto dall'ispettore regionale dell'associazione nazionale Carabinieri Marche Tito Baldo Onorati la testera di socio simpatizzante i rappresentanti hanno voluto donare al mio socio una raffigurazione in metallo della famosa carica di pastrengo e il crest dell'associazione ancora cronaca un signore anziano di 83 anni rimasto ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 11 in via Roma Fano all'altezza dell'intersezione con via Togliatti l'uomo per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava in direzione mare ed è caduto a terra soccorso dai sanitari del 118 l'83enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce ma non dovrebbe essere in pericolo di vita incontro e conosco quindi accolgo il titolo del terzo dossier statistico su povertà e risorse che la Caritas Diocesana presenterà giovedì 19 novembre alle ore 16 nella sala San Michele in Viarco d'Augusto a Fano verranno illustrati i dati relativi al nostro territorio nell'ultimo quadriennio in coincidenza con il periodo di crisi occupazionale ed economica a conclusione sarà consegnata una coppia gratuita del fascicolo sempre nella giornata di domani ma nella sala dei globi della biblioteca federiciana verrà presentato l'ultimo volume lo vedete alle mie spalle di nuovi studi fanesi è una rivista pubblicata nel 1986 dalla biblioteca federiciana che raccoglie saggi di carattere storico e letterario riguardanti la città di Fano e territori limitrofi si tratta dell'ultimo numero di nuovi studi fanesi che verrà presentato giovedì 19 novembre alle ore 17 nella sala dei globi i documenti che sono stati trattati in particolare con questo numero che poi di fatto è diventato monografico che è dedicato a Cesare Rossi sono tutti all'interno della biblioteca federiciana e costituiscono uno dei nuclei più importanti del patrimonio storico della città 19 novembre 1720 la Bate Federici fece testamento lasciando la biblioteca alla comunità fanese ma 19 novembre 1828 nacque anche Cesare Rossi per cui una coincidenza molto positiva fortunata che ci consente di concentrare l'attenzione proprio su questo personaggio a Cesare Rossi viene dedicato il numero 27 che contiene la pubblicazione del copione inedito dell'amleto di Shakespeare adattato da Andrea Maggi per la compagna di Rossi la pubblicazione del volume è stata curata dalla professoressa Sandra Pietrini docente di storia del teatro e dello spettacolo all'università degli studi di Trento e contiene saggi di Stefania Stefanelli linguista docente alla scuola normale superiore di Pisa e della ricercatrice cefanese Angela Frattolillo uno è un documento che ha una corrispondenza diretta con questi studi perché il contratto firmato da Cesare Rossi in qualità di capo comico per la città di Torino del teatro con Andrea Maggi proprio per la rappresentazione dello spettacolo appunto a Amleto l'altro invece è un contratto firmato da Cesare Rossi con una giovanissima Eleonora Duse che tra l'altro lui cita impropriamente chiama Cecilia e che è stato un po' il motivo che poi ci ha ricondotto ad approfondire questo studio il volume dopo la presentazione verrà posto in vendita in biblioteca al prezzo di 12 euro per informazioni è possibile contattare il numero 0721 887473 e prima di salutarci vi mostriamo una fotografia scattata da un nostro reporter di strada si tratta di un esemplare come vedete di tartaruga rinvenuta nel tardo pomeriggio sulla riva della spiaggia di Sassogna 3 a Fano per il recupero dell'animale è stata allertata la capitaneria di Porto e vi ricordo che dopo una nuova puntata di Guarda chi c'è questa sera torna il nostro programma Primo Cittadino con il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi potrete intervenire in diretta telefonando allo 0721 861433 oppure mandare un messaggio anche con Whatsapp al 338 49 68 250 e per questa edizione del nostro telegiornale è tutto ci vediamo fra poco per le giorni a per la giorni